Un docente universitario, un illustre famoso cardiochirurgo, il professor Luigi Chiariello, che rapporto ha con il cinema? Professor Chiariello. Ma un ottimo rapporto, io amo molto il cinema, anche se non mi posso dire un cultore, un esperto di cinema, un bel film cambia un po' la giornata, l'umore e fa vivere meglio, ecco la giornata, quindi il rapporto è molto piacevole con il cinema. Questa apertura sul cinema e medicina, che è un tema a cui tengo tantissimo, l'ho apprezzata moltissimo, tra l'altro in Italia esiste un'associazione che ormai da dieci anni, Medicinema, porta avanti studi ed attività sul cinema come valore terapeutico ed ormai, lo dico al cospetto di uno dei più grandi luminari della cardiochirurgia, il professor Chiariello, ci sono dati acclarati sulla riduzione del senso del dolore, sulla riduzione dello stress, quindi è importantissimo, aveva ragione lui a citare il Gemelli, c'è anche il Niguarda a Milano che ha una bellissima sala cinematografia, quindi questa piccola pillola mi è concessa. A questo proposito mi ricollego ad Amusia, che è un film secondo me bellissimo, io l'ho visto al Festival di Bari in uno strepitoso Teatro Petruzzelli, anche qui una bellissima abbinata tra teatro e cinema, vedo De Concilio che tra l'altro è un giovanissimo, bravissimo attore che non abbia neanche 25 anni, io l'avevo già visto sia al cinema sia a teatro, l'ho ritrovato benissimo in questa pellicola, d'altro accanto a un mostro sacro, anche se non vi siete incrociati sul set come Farnia Ardane che è stata diva del Festival di Bari, quindi benissimo questo film che parla, è vero, di una sindrome poco conosciuta, che ha a che fare molto col disagio psichico in generale, però è anche un pretesto per un film intimista, molto bello, molto interessante, audace, come l'ha definito Caprara, che io consiglierei fortemente. Chiarello, per chiudere questa puntata, ma il cuore reagisce anche alle emozioni che può trasmettere una pellicola toccante, profonda, intensa, speciale o no? O è un luogo comune? Ma certamente, il cuore, tutti sappiamo che se si vede un film, un thriller, il cuore batte forte, se si vede un film invece dolce, d'amore, la psiche è molto rilasciata, quindi certamente, noi siamo emotività, il cinema sollecita le emozioni, quindi certamente il cuore, come del resto può anche succedere, stimolare diversi sentimenti, quelli dell'odio, certamente il cuore partecipa agli avvenimenti che vede, per cui quelli cinematografici, sicuramente. Il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Buonanotte.